vai verso ecco perfetto vai pure vicino vai pure vicino bico che belle corna guarda se è ferito no ma non ti fa niente guarda puoi quasi toccarlo perché mi sa che muore mi sono proprio dimenticato dagli la tua Gatorade che è pieno di sali minerali bico vai tranquillo non ti fa niente dai seguilo seguilo ma è malato è caduto giù da qualche burrone le gambe le muove tutte bene è un maschio sembra cosa vedi sotto le gambe fimo vieni ma ha gli occhi rossi è cieco è cieco vedi che lui sente la nostra voce e si gira prova a parlare adesso ciao vieni qua vecchio ah è cieco ok abbiamo capito cosa è cieco è giusto che muoia selezione questo questo arrivo questo e se cieco è perché la vecchiaia è normale cazzo non avrei mai pensato in vita mia di vedere uno sta pecco da tutto vicino e per quello che c'è tutte quelle tracce lui che non capisce dove cazzo andare puoi fare anche lo zoom eh aspetta 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 no ma non ha la forza Simo è tranquillo solo di un occhio cieco no no uno è rosso uno è blanco non non vede un cazzo magari si è ferito l'occhio e quindi boom l'unico che ci vedeva però non ha un brutto pelo eh no è da poco che sta male ma è solo cieco secondo me per cagare bisogna mangiare per cagare bisogna mangiare magari il sale davvero lo mangiava adesso o vieni qua tutto l'inverno a portargli la roba a portargli la roba